ciao a tutti e ciao soprattutto a lei questa bellissima ragazza che vedete inquadrata vieni vieni facciamo un passo avanti allora come ti chiami lena da dove vieni di cazzo verona benissimo con la festeggi stasera al convento benissimo guarda come siete vestite bene tutte in giallo e tu in giallo e in rosa come mai questa scelta perché sanno che adoro tanto il giallo forse è il tuo colore preferito no l'odi proprio come mai cosa ti ha fatto il giallo di male niente non mi sta bene ma non ti sta bene quindi non è nessun vestito giallo nel tuo armadio uno solo a 11 ma lo pensi di buttarlo via lo tieni no lo tengo ancora lo tiene bravo bravo mi piace mi piace allora quando ti sposi con chi venticinque maggio con Fabio Fabio un Fabio uno a caso no l'hai già trovato no l'ho già trovato ah ok no magari pensavo che volessi sposare un Fabio e lo cercavi fino al venticinque maggio no 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 l'hai già scelto l'hai già scelto l'hai già scelto come mai hai scelto lui cos'ha di speciale mi fa essere me stessa oh bello bello ci piace questa definizione allora vuoi fargli un saluto vuoi fargli qualcosa beh ciao amore brava brava poetica e concisa allora facciamo un saluto anche a te facciamo un saluto alle tue amiche in giallo e vi auguriamo una buona serata e un buon divertimento ciao ragazze